Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così possiamo definire la trattativa che ha riportato Amato Ciciretti a Benevento nel club di Oreste Vigorito. L'attaccante ha firmato un contratto annuale ed è desideroso di prendere tra le mani le redini della formazione giallorossa crollate in Serie C dopo qualche anno glorioso di calcio tra Serie A e Serie B. Il suo compito sarà quello di guidare la squadra ai vertici del campionato di Lega Pro, cercando di compattare un gruppo alla ricerca di identità ma soprattutto di veri leader. Eh sì, il Benevento l'anno scorso si è sfilacciato e quest'anno l'avvia non è stato dei migliori in Serie C. Sappiamo bene che questo campionato gioca dei brutti scherzi, soprattutto nelle prime giornate, ma la differenza la fa più che l'organico l'unione e l'organizzazione della rosa. Sono contentissimo, era da qualche anno che aspettavo questo momento, adesso voglio cogliere un'opportunità così importante nel migliore dei modi. Con il direttore ci siamo fatti una chiacchierata e entrambi abbiamo capito subito che questa era la scelta migliore. Ciciretti sa bene che a Benevento ha vissuto uno dei punti più alti della sua carriera, riuscendo a trovare il giusto equilibrio sia in campo che interiormente. L'anno scorso, con la maglia dell'Ascoli, in 13 presenze, ha realizzato due gole e un assist e non gioca una partita ufficiale dal 26 febbraio 2023, proprio quando la formazione bianconera sfidò il Benevento con il match che terminò 0-0. Adesso forma fisica permettendo, perché Gio Vecatore da svincolato si è allenato da solo ma c'è da ritrovare la forma partita per dire la propria in campo. Il suo post su Instagram fa comprendere benissimo la voglia del calciatore di tornare ad essere protagonista e i tifosi del Benevento se lo augurano per tornare a sognare in grande.